Prima di Natale lei aveva presentato un'interrogazione proprio sullo stato di degrado di questa villa, oggi in un certo senso è stata bonificata in parte ma non da chi si aspettava lei? In realtà l'interrogazione l'ho presentata io insieme al mio gruppo consigliare del Popolo della Libertà, ci siamo interessati dello stato di degrado e di abbandono della villa Ambrosini chiedendo al sindaco e all'amministrazione comunale un intervento che questo a distanza di tre mesi non è arrivato, lo abbiamo incalzato negli ultimi mesi sulle cose da fare, riteniamo che per la pulizia della villa non occorrono né finanziamenti regionali né finanziamenti nazionali e europei, solamente le buone intenzioni di una buona amministrazione, lo stato di abbandono e di degrado delle casette dove troviamo i bagni frantumati, lavantini rotti, quindi quello che continuiamo a dire all'amministrazione è di intervenire concretamente sfruttando la mera risorsa umana del comune, riaprire così e ridare la possibilità alle famiglie, ai bambini di venire a giocare in tranquillità senza il rischio di farsi del male.